La nuova Renault Espace con i suoi 4,85 m di lunghezza e 1,87 m di larghezza e la configurazione a 5 o 7 posti è un'automobile generosamente proporzionata. La sua altezza compatta, 1,68 m, bilancia un'altezza da terra che è stata leggermente incrementata di 16 cm per conferire all'automobile un aspetto sofisticato. L'interasse generoso di 2,88 m contribuisce alla sensazione di dinamismo e genera spazio all'interno del veicolo. Grazie alla sua parte anteriore decisa, la nuova Espace esalta il logo e le caratteristiche che identificano i modelli Renault. La nuova firma luminosa conferisce alla nuova Espace un'identità decisa, brillante, emblematica e allo stesso tempo tecnologicamente avanzata. Il suo profilo muscolare è compensato da passaruota accentuati che prevedono cerchi da 19 pollici di serie. La modannatura cromata sui vetri laterali e i retrovisori esterni perfettamente integrati sono caratteristici della nuova linea di Renault Espace. Le caratteristiche aerodinamiche confermano la funzionalità delle sue linee fluide. Il luminoso parabrezza panoramico di 2,8 m2 prevede un tetto a vetro fisso di serie sui sedili anteriori in grado di garantire al veicolo un effetto di grande luminosità. Un tettuccio apribile è disponibile come optional. Nella parte posteriore i fari generosamente proporzionati consolidano l'aspetto deciso della firma illuminata. Nell'erroi generosamente caratteristiche aerodinamiche confermano della di San Antonio